Buon pomeriggio, ben ritrovati su Sicilia 24, apriamo questa edizione di Spazio Notizia parlando di una tragedia avvenuta in Puglia ma che riguarda da vicino anche la Sicilia, un rimorchiatore affondato a largo delle coste pugliesi a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque croate. I componenti dell'equipaggio erano in tutto sei, di loro solo il comandante, un 63enne catanese, è stato tratto in salvo e si trova adesso nell'ospedale di Venere di Bari. Altri due sono stati recuperati morti, mentre gli altri tre sono stati individuati in mare e i loro corpi non ancora recuperati. Questa dunque la tragedia avvenuta, come detto, nelle coste pugliesi che riguarda la Sicilia, poiché avete sentito solamente il comandante, un siciliano, è riuscito fortunatamente a salvarsi. Parliamo adesso invece di migranti, altri sbarchi a Lampedusa, sei per la precisione con un totale di 223 migranti e anche un cane. Dunque sei sbarchi registrati nella notte a Lampedusa. I diversi gruppi sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola dove ci sono 793 ospiti, nonostante i trasferimenti e dunque il tentativo di alleggerire la struttura. I primi due gruppi di 18 e 51 persone sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza. Una motovedetta della Capitaneria nel frattempo soccorreva 73 persone, tra cui 4 donne e 3 minori. Ad 8 miglia dalla costa invece sono stati rintracciati 5 tunisini, tra cui una donna e un cane. Poi è stato il turno di 59 persone, tra cui 19 minorenni bloccati a circa 40 miglia da Lampedusa e infine 17 migranti intercettati a 4 miglia. Ed ora invece parliamo di una notizia di Catania, un ingrave incidente avvenuto stamane a Catania. In questo momento un ottantenne è stato ricoverato all'ospedale San Marco per la precisione dei ingravi condizioni dopo un brutto incidente avvenuto tra due scooter. Uno di questi due scooter era proprio guidato dall'anziano, mentre sull'altro c'erano due ragazzi. Anche loro sono rimasti feriti e sono finiti al San Marco con qualche ferita. L'incidente per la precisione avvenuto in via Aquicella-Porto. E adesso invece parliamo di una storia lieto fine, fortunatamente avvenuta a Caltanissetta. La leggiamo insieme. Si trovava nella casa di Campagna del nonno, quando a un certo punto si è allontanato dalla proprietà di famiglia, sparendo dalla vista dell'anziano. Il protagonista della storia, per fortuna con un lieto fine, dicevamo, un bimbo nisseno di tre anni che aveva fatto perdere le sue tracce intorno alle 9.30 di questa mattina. Ad allertare la mamma del bimbo è stato il nonno, sconvolto poiché non riusciva a trovarlo. Subito la donna si è messa in contatto con la polizia che ha attivato le ricerche. Alcuni equipaggi della sezione volanti della questura di Caltanissetta si sono recati nella zona di Campagna iniziando a cercare il piccolo. A circa 300 metri dal luogo di allontanamento gli agenti hanno trovato un paio di occhiali che indossava proprio il bambino indirizzando le ricerche in quella direzione. Poco dopo il bimbo è stato trovato dai poliziotti in una zona impervia di Campagna mentre guardava le mucche al pascolo. Fortunatamente tutto è finito bene e gli agenti hanno riaffidato il bimbo alle cure della madre. Da una bella storia invece ad una brutta storia, stavolta a Palermo dove un disabile in sedia a rotella è stato rapinato in piazza Benvenuto Cellini nel quartiere Cep. L'uomo ha aperto il portone alla badante e un malvivente ha approfittato della situazione per entrare nell'abitazione spingendo dentro anche la donna. In poco tempo ha raffato 2000 euro in contanti per poi fuggire con una bici elettrica. La polizia ha acquisito le immagini di alcune telecamere installate nella zona e ha ascoltato sia la vittima che i testimoni. E sempre a Palermo invece un parcheggiatore abusivo è stato condannato a tre mesi di carcere e al pagamento di un'ammenda da 1000 euro. Si tratta di un uomo di 61 anni. I carabinieri e la polizia di Stato lo avevano multato e denunciato più volte sia nella zona di Via Cavour che in quella di Teatro Massimo mentre cercava di aiutare gli automobilisti a parcheggiare. Il giudice ha condannato l'uomo secondo quanto previsto dal codice della strada. I legali dell'imputato hanno già fatto sapere invece che impugneranno la sentenza. E sempre a Palermo la Guardia di Finanza ha confiscato beni per 150 milioni di euro a un imprenditore attivo nel settore dei supermercati. Ti vediamo il servizio. Maxi confisca di beni per un ammontare di circa 150 milioni di euro a Palermo e provincia ai danni di Carmelo Lucchese, 56 anni, imprenditore nel settore della grande distribuzione alimentare. Il provvedimento è della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura Direzione Distrettuale Antimafia ed è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. La confisca riguarda la società Gamac Group SRL con sede legale a Milano che gestisce 13 supermercati tra Palermo e provincia, Bagheria, Carini, Bolognetta, San Cipirello e Termini Merese che era già stata affidata quando era scattato il sequestro ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale con il compito di garantire la continuità aziendale e mantenere i livelli occupazionali per preservare i diritti dei lavoratori, dei fornitori e della stessa utenza. Secondo le indagini della DDA, sulla base degli accertamenti svolti dai militari del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo Carmelo Lucchese, pur essendo incensurato, sarebbe da ritenere, dicono gli investigatori un imprenditore colluso alla criminalità organizzata posto che il medesimo, seppure non organicamente inserito nell'organizzazione criminale ha sempre operato sotto l'alla protettiva di Cosa Nostra. Ebbene, sono stati sequestrati anche a una società di raccolta rifiuti a San Cataldo, scopriamo perché. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha notificato la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio di uffici direttivi a sei componenti del Consiglio di Amministrazione di una società di San Cataldo per la raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani. Il provvedimento è stato emesso dal GIP nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta impropria della procura del capoluogo nisseno. Le fiamme gialle hanno eseguito anche il sequestro cautelare di due opifici e di beni per circa 3,2 milioni di euro. Le indagini erano state avviate dopo un esposto presentato alla procura di Caltanissetta. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza, secondo l'accusa, sarebbero emerse gravi irregolarità nell'approvazione dei bilanci di esercizio che avrebbero riportato perdite allo Stato ritenute non reali e non giustificate in capo alla società sancataldese, mostratasi priva di idonei piani di risanamento deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Per la procura, attraverso negozi giuridici formalmente leciti, i componenti del CDA avrebbero riversato sistematicamente beni strumentali e funzionali alla prosecuzione dell'attività predominante in una società di nuova Costituzione, riconducibile agli stessi amministratori di fatto. E adesso a Messina, dove i poliziotti hanno proceduto all'arresto di un 38enne attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. I reati contestati sono evasione e false dichiarazioni sulla propria identità personale. Nel corso di una verifica effettuata dai poliziotti, infatti, impegnati nel controllo del territorio in via del Santo, il 38enne ha fornito false generalità spacciandosi per un'altra persona. I successivi accertamenti hanno permesso di risalire alla reale identità dell'uomo ed evidenziato pertanto la violazione delle prescrizioni a cui è sottoposto. E degli arresti sono stati effettuati anche a Favignana, stavolta da parte dei carabinieri che hanno tratto in arresto due persone le quali devono scontare la pena in un istituto penitenziario per reati commessi in passato. Nello specifico il primo è un imprenditore di origini marsalesi il quale deve espiare la pena di 4 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2017 a Marsala. Il secondo, invece, di origini campane, ma residente a Favignana, deve espiare una pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di tentata estorsione commesso in Campania e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Entrambi, al termine degli atti di rito, sono stati tradotti presso il carcere Cerulli di Trapani. E adesso ci spostiamo virtualmente a Castelvetrano dove nella giornata di ieri i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco nei pressi della contrada Fontanelle a causa di un incendio di sterpaglie. Giunti sul posto, i militari dell'arma hanno accertato che oltre alle sterpaglie era andata a fuoco un'auto che risultava completamente distrutta dalle fiamme. I militari hanno constatato che il mezzo andato a fuoco era stato pochi giorni prima posto sotto sequestro amministrativo in quanto sprovvisto di copertura assicurativa. Il 45enne custode dell'auto è stato quindi denunciato per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro in quanto avrebbe continuato a utilizzare il mezzo senza averne l'autorizzazione. Ancora cronaca, stavolta a Serra di Falco, nuovo atto intimidatorio nei confronti dell'avvocato Maria Giambra. Diversi colpi di pistola sono stati sparati contro il portone della sua abitazione nel centro abitato del paese in provincia di Caltanissetta. Il legale in quel momento si trovava in casa con i familiari. A contattare i carabinieri arrivati immediatamente sul posto è stato il marito. Si tratta dell'ennesimo attentato nei confronti dell'avvocato la quale è in questo momento sottoposta a protezione ormai da diversi mesi. Diverse persone sono già state arrestate dai carabinieri nell'ambito di indagini sugli attentati subiti proprio dall'avvocato come l'incendio di diverse autovetture e le fiamme appiccate alla tettoia della sua abitazione. Continuiamo con questa ampia pagina di cronaca. Adesso una notizia da Acireale dove i carabinieri hanno denunciato un 35enne del posto in quanto gravemente indiziato di tentato furto aggravato. Nella scorsa mattinata i militari hanno udito un forte rumore da taglio e delle scintille uscire da sotto un'autovettura parcheggiata in strada. Si sono quindi avvicinati e hanno notato il 35enne mentre era ancora affaccendato sotto l'auto con un flex nel tentativo di sottrarre il catalizzatore all'interno della marmitta di scarico dell'autovettura. L'uomo, colto evidentemente di sorpresa, è sbucato da sotto l'auto con la smerigliatrice ancora nelle mani e in funzione tentando anche la fuga a piedi salvo poi essere bloccato dai militari a pochi metri di distanza. Adesso invece vi mostriamo un'immagine. Questa notizia si riferisce a Lipari ed è una iniziativa di protesta che andrà in scena domani proprio a Lipari, nelle Olie. Vedete, avrà a luogo un corteo funebre per la dipartita del diritto alla sanità pubblica. Dopo una lunga agonia, si legge, causata dal morbo della politica, questa iniziativa, questa protesta è indetta dal comitato l'ospedale di Lipari non si tocca. Dopo mesi di ricerche di cure ed interventi salvavita, dicono i promotori, inviati alla regione siciliana, invitiamo tutti i cittadini e oliani a unirsi al corteo funebre per la dipartita del diritto alla sanità pubblica. L'appuntamento è fissato alle ore 19.30 sul corso Vittorio Emanuele di fronte al supermercato centrale. Da lì il feretro, seguito dal corteo, proseguirà fino a rendere omaggio al parente più stretto del defunto, ovvero l'ospedale di Lipari, dove nel piazzale antistante verrà depositata in memoria una corona di fiori. E dunque questa è l'iniziativa di protesta, come detto, indetta dal comitato l'ospedale di Lipari non si tocca, che domani metterà in scena un vero e proprio funerale per manifestare il dissenso, in questo caso per quanto riguarda l'ospedale di Lipari. E questa era anche la nostra ultima notizia, quindi ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi, sempre su Sicilia24. A dopo. Grazie a tutti.